buon salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro una versione di orzo pestilence particolare parliamo della versione di orzo pestilence control caratterizzata dal fatto di giocare più rampini quindi oltre a bonder ornament classico ormai si gioca il pristine talisman e ciò che caratterizza pestilence quindi il soft lock di peste più guardiano è un pelino più marcato ho voluto fare due esperimenti in questa lega la prima giocare feed the swarm come removal aggiuntiva problema di pestilence che spesso e volentieri mi ritrovavo in situazioni in cui non riuscivo a vedere le removal per quanto sia un mazzo composto da removal ebbene feed the swarm è una removal aggiuntiva che toglie praticamente qualunque cosa con il downside di farci perdere vita in base al costo della creatura che andiamo a rimuovere ma rimuove anche incantesimo quindi immaginate un oblivion ring su una pestilence bene riusciamo a toglierlo in più rallenta anche aura dandoci il tempo di trovare il chainers edict o magari rimuove una blessing di heroic permettendo così di targettare quindi una carta interessante da provare una giunta al mazzo rispetto alle versioni classiche il campus anche qua la scryland del pauper in un archetipo come questo capite che risulta essere forte utilizzare il mana che avanza per almeno fare uno scry della prima carta voglio giocare con cinque scartini quindi due diures e tre casti che è già main deck permettono di giocare in maniera più clean contro avversari che giocano counter considerate che attualmente fatine è tornato ad essere uno dei mazzi più giocati nel meta il resto è tutto abbastanza classico già fatto una deck deck di pestilence ve la metto a fine video tra i consigliati per poi passare alla side decisamente atipica 4 choking sand e 4 ranzi dirt giochiamo 8 slandi per provare a gestire i mid range post side in particolare sono lì per trono e per rg ponza o jand contro cui altrimenti rischiamo di andare veramente tanto sotto troppo in fretta i criptrath sono lì perché non voglio mai perdere da elfi o da mazzi sciame in generale considerando di norma quei matchup sono visti come dei buy ma delle volte il mazzo è talmente inchiodato che rischiamo di perdere lo stesso con 3 criptrath e 4 pestilence direi che questa cosa non si rischia allo stesso modo le prismatic strand ci permettono di guadagnare tempo per arrivare al criptrath o per arrivare alla pestilence anche immaginate contro uno stompy per quanto poi abbiamo poche creature che ci permettono di flashbackare il prismatic strand che sono guardiano custodi squire e la traba in inspector però è una carta veramente forte che fa guadagnare tutto quel tempo che ci serve per gestire i mazzi corso antifire uno spacca incantesimo o artefatto che possiamo riprendere di custodi di mortoli myrn un po meno sinergica rispetto alla versione midrange che ovviamente gioca le creature però è una carta comunque sempre interessante poi la side si può sviluppare sempre in tanti modi diversi l'importante è avere le linee bene in mente e infine due reliqui del progenitus perché ci sono troppi mazzi che giocano al cimitero attualmente una lista dunque di pestilence un po' atipica diversa dal solito vediamo in questa lega come si andrà a comportare pubblicherò questa volta le cinque partite nude e crude conto di ripetere questa cosa almeno una volta al mese per riuscire a dare uno spaccato effettivo di quello che è il meta attuale così che seguendo il canale di volta in volta vedrete anche l'evoluzione del meta su magic online e quindi anche come questi mazzi si rapportano al resto del meta sempre tenendo mente che durante le leghe di questo tipo io gioco sempre qualche carta particolare come appunto feed the swarm per provarle e perché mi diverto comunque a portare delle build un po' particolari quando non punto soltanto a fare risultato carves in questo primo match in cui andiamo già a mallegare e questa è una mano tenibile dai keep e andiamo a togliere a questo punto delay night whisper il resto abbiamo un motore di vantaggio carta che è bonder pestilence sta mallegando anche lui comunque quindi va bene e partiamo con un campus così abbiamo già doppio colore con le nuove scryland ponder bene 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 molto belle queste terre molto belle e feed the swarm abbiamo almeno una removal partiamo con la cabira passiamo ok non fa nulla niente di niente vorrei provare a fare un castigate usa un counterspell qua sopra va ah brainstorm non benissimo ci nasconde quello che non vuole farci vedere però almeno vediamo parte della sua mano prenderemo di Bojuka e capiamo che cosa vuole fare carves è tipo il re dei brasiliani dei giocatori brasiliani quindi sarà sicuramente una partita interessante anche già dall'utilizzo di queste brainstorm in questo modo si vede la skill del giocatore ok 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 quindi siamo contro Ubi della Gurmag me ne frega poco togliamo Augure di Bolas e facciamo Bojuka su di lui ok e passiamo dispel sempre main deck per il brasil sempre main deck e una terrina stappata ci dava tanto cominciamo a fare bonder che a questo punto dovrebbe entrare e invece in cima aveva un bellissimo counterspell giusto giusto ok terra e a questo punto appoggiamo la nostra Thorn of the Black Rose meno che non avesse un altro counterspell in cima che non sarebbe una cosa carina però va bene va bene passiamo ok molto bene vuole fare Gurmag vuole fare Gurmag ammiraglio non vuole fare la Gurmag lui dice tanto sono open di dispel e invece 1, 2, 3 facciamo bonder 1 e 2 feed the swarm gli andiamo ad uccidere l'ammiraglio tanto feed the swarm e sorcery ah già pensavo a uno spell piercing mi stava venendo malissimo e attacchiamo ok chainers addict molto bene molto molto bene concede la partita anche perché qua avrebbe dovuto fare tipo Gurmag questo non me lo può rimuovere molto bene molto molto bene allora siamo contro UB io vado a mettere le relic perché uno rallentano Gurmag e rendono più difficile il fatto che entri faccia cose due due lui gioca giocherà sicuramente i ghast e i ghast li possiamo andare a desiderare in risposta quindi sono molto contento i scartini sono forti da qui andrei a togliere almeno un crit rat e probabilmente un pristine talisman bah direi di sì 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 non è diciamo non è esattamente uno dei matchup in cui brilla questo questo pristine talisman l'altra possibilità è togliere una peste perché comunque lui non è che giochi tutte queste però non ho visto se gioca a fattine o meno non è non ha non ne ha rivelato neanche uno ma non è che abbiamo visto tanto nel suo mazzo quindi per il momento tengo tutte le pesti se non giocasse le fattine dovesse esserci un ipotetico G3 potremmo andare a sedare invece fuori una una peste questo è un altro malligan mannaggia queste terre oggi non si vogliono far vedere questo è un keep per il momento andiamo a togliere una torn ok delver va bene partiamo di cabira e passiamo vediamo se flippa non blind flippa ok quindi abbiamo detto che lui non dovrebbe giocare le fattine se gioca pure i delver quindi io ci provo a tirare di ures mi fido di te carves counter spell secco va bene probabilmente avremmo scartato quello quindi va bene brainstorm top 3 ghast va bene cabira ottima 1 e 2 cast down e uccidiamo il delver e passiamo brainstorm ok ok lui ha comunque soltanto 3 carte in mano noi siamo alti di vite io provo a fare un bonder ornament patch va bene vediamo se ha un altro counter spell counter spell va bene andiamo a riprenderci mano questa e comunque tutte queste attivazioni di cabira ci hanno fatto guadagnare un sacco di tempo e di vite il guardiano va cioè il guardiano la gourmag va abbastanza bene perché se poi non ha una removal per il guardiano stiamo lì a guardarci è in linea di massima ha i due carte in mano comunque quindi ok e guadagniamo due passiamo ok hai il chainer hai il chainer che bravo 7 danni e allora facciamo night whisper non ci serve a nulla proprio a niente nulla più totale eh no 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 non ce la facciamo concediamo non ce la facciamo non con quello che abbiamo pescato male va bene però lui non gioca le fattine quindi rimettiamo un pristine talisman e togliamo una pestilence il resto direi che funziona abbastanza ok e guarda tengo non c'è il nero ma c'è un bonderord mentre abbiamo doppia traben quindi poi le fonti nere sono le maggiori prossima terra dovrebbe essere una fonte nera almeno teniamo una mano a 7 delver of secrets facciamo traben e andiamo 24 passiamo non flippa siamo già contenti terra morfica peccia ok e ponder non gioca preordain quindi ho visto soltanto ponder e brainstorm io non sono un fan preferisco preordain quasi sempre però choose to not shuffle ok allora la terra c'è appoggiamo a questo punto un'altra traben o andiamo poi a pescare direi che tanto il prossimo turno siamo messi così attacchiamo e basta tanto delver flipperà riferisco pescare una carta perché perlomeno il prossimo turno dovrei riuscire a fare removal più traben o nel caso bonder adesso vediamo però preferisco pescare una terra in più tanto la possibilità di tirare questa traben ce l'ho bonder tra l'altro ha preso di panalisi leggera da giocare in questo mazzo anche perché non ho visto totscower essendosi tappato così questo delver dovrebbe morire molto agilmente ne andiamo a 21 to not shuffle di nuovo va bene 6 carte in mano peschiamo di clou o giuca bene c'è la relic allora prima di tutto vorrei fare no sbagliato ho miscliccato ragazzi ho miscliccato mannaggia la miseria mannaggia la miseria vabbè facciamo relic mamma mia quando si misclicca così eh dovevo arrivare al chaner sedict ho tirato night whispers prima mamma mia quanto sono scarso vabbè attacchiamo di traben ma possiamo yieldare altro ponder va bene perlomeno sappiamo che gurmag ci metterà un sacco ad entrare auguri di bonus prende counterspell va bene e prendiamo sto danno questi danni perché sono scarso uno due tre quattro vorrei fare peste e bojuca su di te ok e passiamo va bene e ora vediamo che cosa si inventa certo è che prendiamo almeno altri tre danni più probabilmente qualche altro danno per peste avessi non miscliccato va bene non me ne frega assolutamente nulla va bene stappiamo un'altra peste allora allora diciamo che vogliamo fare di volendo posso vratare da tre o dire attacco vratto da due e poi provare a tirare doppia tra ben che non è male non è male però 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 mi ispira ma non mi ispira proviamo intanto attacchiamo blocca ok e allora a questo punto lo facciamo così facciamo peste da ur possiamo in realtà dire facciamo prima bonder gli facciamo usare il counter spell però bonder poi lo vogliamo però fa nulla gli facciamo usare il counter spell no perché poi no dobbiamo fare così quindi un danno a tutti un danno a tutti tra ben vediamo se ci usa un counter spell sopra usa un counter spell sopra tra ben andiamo ad esiliare una carta ok e per il momento direi che possiamo anche passare ok chainers edict per togliere mi pestilence va bene vuol dire che non ha fatto granché questo turn ha sprecato un counter spell su una tra ben va bene va benissimo ok 1 2 3 proviamo a fare bonder vediamo se è un altro counter spell no di esilio un'altra carta dal cimitero e a questo punto preferisco pescare adesso che se pesco una terra è molto bella ciclo prendiamo una bella palude passiamo ok sacca la relic si esilia il cimitero sono contentissimo di questa cosa contentissimo augure di bolas va bene counter spell ok e augure di bolas che gli gira niente va bene dove dove sono i miei sassi che fanno guadagnare vite facciamo una diures deep analisi deep analisi monarchino e disper del disper non ce ne frega assolutamente nulla del counterspell un pelino di più quindi possiamo intanto dirgli via il counterspell 1 2 3 e 1 4 facciamo un guardiano mi lascio a mano è questa doppia deep analisi azur e dispel e a questo punto ma io almeno un chaner glielo faccio si 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 e esili una carta prego 2 3 4 deep analisi ok terra 1 e 2 deep analisi e vai a 13 ok oh questa è bella 1 2 3 facciamo pre-sting talisman 1 2 3 e 1 4 facciamo pestilence diamo 2 danni la race è tutta dalla nostra esiliamo anche il counterspell e per il momento possiamo passare 1 2 3 4 5 fonti nere 5 fonti nere beh ha trovato una soluzione va bene è una pseudo soluzione relic va bene e ci dà un danno tanto noi abbiamo un pre-sting talisman in campo quindi questo danno è come non esistesse ok ok e diamo un danno giusto sì stappiamo custodi squire che purtroppo non mi serve un tubo adesso 2 3 4 5 guadagniamo una vita a meno di giocare custodi squire mi cambia qualcosa passiamo se peste sopravvive al prossimo turno abbiamo potenzialmente vinto cioè lui in realtà deve tirare ho snaffout adesso e io poi posso fargli 2 4 no adesso ormai siamo in hand quindi non serve più deve tirarsi una removal nel suo e farmi poi perdere peste è tipo l'unica tanto io di questo danno non me ne frega niente perché torna 10 meno che non ci sia un ninja ma dubito visto che non è fatine e poi dovrebbe tirarsi tipo una removal sull'augure di bolas si gioca in qualunque altro modo in teoria è morto dip analisi va boh 2 4 5 1 2 3 dip analisi va 7 ok e concedi e concede molto bene molto bene è come avessimo già battuto il boss finale del brasil match number 2 pucione pucione allora questa è una mano che accettiamo così com'è e direi però a questo punto di partire partiamo col campus abbiamo castigate di seconde è vero che abbiamo due rest di primo ma non sapendo contro cosa siamo potrebbe in alcuni casi essere meglio avere cast down o altro travel inspector ok andiamo di castigate siamo contro boros monarch boros monarch allora lui mi partirà con questa terrina qui c'è un'altra traben che non fa piacere non fa per niente piacere l'okiba ci arriverà a tempi boh tardivi togliamo togliamo il glintalk sembra che non decida di andare più lento poi dobbiamo andare a togliere la traben non togliamo traben non togliamo glintalk da questa mano probabilmente togliamo traben togliamo traben perché il glintalk lui non lo tira adesso non lo può fare e noi adesso invece andiamo a fare ornament più di ures andiamo a togliere lo spare supplies togliendo così di fatto i pezzi che gli fanno vantaggio adesso la prismatica non ce ne frega assolutamente nulla e gli è rimasta una mano tendenzialmente inchiodata prendiamo questo danno va bene e poi sacca clou va bene vede una terra uno due tre quattro guardiano e già questo per lui è un palo incredibile vediamo se piazza un volante o meno perché se non piazza un volante andiamo di toro piazza il volante eh sì avendo pescato un altro sasso è la scelta giusta ok quindi adesso andiamo a fare un cast down più traben e gli diamo due danni due fortissimi danni ok abbiamo questa prophetic prism di nuovo ok e direi basta ok allora a questo punto noi facciamo che appoggiare il monarca e recuperiamo un po' del tra virgolette svantaggio carte che abbiamo fino adesso perché in realtà se abbiamo un grosso vantaggio board con un leggero però svantaggio carte non attacchiamo quindi stiamo super safe ok ok lui ha otto carte in mano noi però possiamo recuperare molto molto in fretta abbiamo anche una mana base più sviluppata bonder ornament va bene e basta perfetto e noi facciamo un altro bonder ornament tanto la terra ce l'abbiamo ma facciamo questa per il momento e direi che attacchiamo con la thorn gli diamo un danno meglio di niente bolt sopra neanche galvanica ok va bene non stiamo pescando benissimo quindi ottimo l'aver tenuto il monarca per un po' 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 e 8 con quello che andiamo a giocare poi dopo e va bene dobbiamo pescare tipo una removal così da poter fare removal più chainers addict toglierci di torno quel guardiano e facciamo che peschiamo di clou e removal comunque ne abbiamo agli ose quindi e invece che non riesco a fare chainers flashback 2 3 4 5 6 7 8 non riesco a fare chainers più flashback quindi appoggiamo una traben peschiamo e magari la removal la peschiamo adesso no e vabbò a questo punto facciamo 3 1 2 2 1 3 pristine talisman palude 1 e 1 2 e facciamo castigate perché quello kiba gang shinobi non fa piacere proprio per niente 2 3 4 ok purtroppo quello kiba risultava essere un disastro peschiamo una carta in più un'altra terra giustamente che belle le terre qua effettivamente dovevo attaccare davo due danni ma va bene lui diventa monarca e il problema è che adesso ha anche prismatica però se non appoggia nulla noi in realtà gli tiriamo via entrambi i pezzi lui è poi costretto ad attivare il la prismatica e noi gliene andiamo anche ad esiliare quindi allora prima di tutto attacchiamo direi con tutto a questo punto due tre quattro cinque sei sette otto nove abbiamo fatto bene i conti molto bene e prismatic strand che chiamerà ovviamente bianco quindi lui rimarrà monarca prismatic strand che in questo mazzo in media si gioca in due copie quindi chieners edict morta la traben questo è un sugoso due per uno uno due tre quattro cinque sei sette chieners edict intanto torniamo anche a diciotto che è importante e bojuka bog per esiliargli tutto compresa la prismatica e passiamo lui delle cinque carte in mano sei adesso tre sono removal due galvaniche in linea di massimo abbastanza inutili visto che abbiamo anche una un pristine talisman per guadagnare delle vite ok cicla va bene prophetic prism va bene noi l'unica cosa non abbiamo una singola removal in mano che è molto male ecco skyfisher va bene va bene peschiamo qualcosa questo è qualcosa è decisamente qualcosa due tre quattro pestilence attacchiamo con tutto e se blocca non blocca vabbè non cambia non cambia molto facciamo tre danni a tutti due tre e andiamo però a guadagnarci anche due vite a questo punto siamo in linea di massimo abbastanza stallati dove lui però continuerà a scendere di vite più in fretta di noi ok dobbiamo semplicemente non andare troppo sotto botti perché comunque due galvani che sono otto danni quindi noi come fossimo a dieci dobbiamo fare un altro guardiano pala sentinel va bene pala sentinel va abbastanza bene ok stappiamo attacchiamo con un guardiano diventiamo un archi e appoggiamo un altro guardiano direi abbastanza easy ok 1 2 3 4 guardiano questa morto rimane di tirarla la tiriamo di rimettere in cima qualcosa la travel la mettiamo dai oddio ma in realtà non mi cambia nulla quindi no perché magari pesco una removal di monarca una removal instant sarei anche più contento galvanica va bene però siamo a 19 vuoi farmi 19 danni così allora una galvanica è intanto andata due galvaniche sono andate sono a 11 hai già usato anche un bolt quindi in linea di massima hai visto poco meno di mezzo mazzo quindi dovresti avere ancora un botto anche se ne avessi due non mi uccideresti comunque devi avere tipo doppia galvanica più un altro bolt sembra un po' difficile e tra l'altro il prossimo turno diventa doppia galvanica più doppio bolt ok questo non cambia nulla peschi di clou va bene travel inspector ok ok andiamo in end due tre e uno quattro e scraiamo bottom stappiamo e peschiamo cast down bene facciamo un'altra terra e direi che passiamo se vuole attaccare adesso diventa un blocco le due traben uccido pala sentinelli cast down che non voglio andare troppo basso di vita neanche io quindi vorrei cercare di sviluppare un attimino il pesca di clou no che sta facendo rip in the graves da uno va bene oh un altro brist in talisman questo sarà molto forte molto forte tra l'altro se non attaccare non fa nulla posso dirgli vado uso il cast down sulla sky fisher che andrà ad entrare e fine si attacca così invece ok blocco 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 adesso non ho pensato a ninja ma in realtà non dovrebbe giocarne due quindi non dovrebbe cambiare nulla ok distrutto il board e siamo a 12 quindi deve avere altri 4 botti per uccidermi core sky fisher va bene e si riprende ovviamente profetico profetico ok tappi due altra core sky fisher allora qua dovremmo utilizzare pestilence poco da fare radian fountain però lui può avere al massimo tre botti ma uno ai giorni golden egg due sole terre non ho scroiato mannaggia la miseria vabbè uno due tre sui ciccolai ogni tanto proprio ti perdi ti perdi click ok uno due tre e uno quattro appoggiamo un altro guardiano e diamo due fortissimi danni c'è quattro fortissimi danni ok io così rimango comunque a 11 che vuol dire doppia galvanica più bolt e se stappo poi comincio a fare due vite a turno quindi che stai facendo ok sacca clou va bene ha visto 35 carte quindi uno barra due botti potrebbe averli però che siano tutte galvaniche un po' difficile ok allora qui peste da 1 peste da 2 e peste da 3 in linea di massima se non mi cide questo turno è morto però ripeto è un po' difficile possibile possibile perché potrebbe sempre avere schiappato tutti i botti del mazzo però difficile noi comunque il prossimo turno lo mandiamo a 2 e poi in linea di massima una volta a 2 può avere tutti i botti che vuole ma non può fare tutto quanto in risposta allora la terza galvanica in realtà c'era c'è anche la quarta peschiamo entrambi di bonder va bene attenzione che lui ha anche un golden egg quindi può fare qualche vita quindi ha usato un bolt e 3 galvaniche stappiamo allora intanto 6 danni mi sacca golden egg adesso giusto 3 4 5 6 7 8 9 però va bene quindi 6 danni lo mandiamo a 5 e concede giustamente ok quindi boros monarch boros monarch dovrebbe patire abbastanza il land destruction quindi 4 altri 4 chiamo 8 slandi e la core sanctifier cosa dobbiamo andare a togliere cryptorat non mi fa impazzire e il resto in realtà è tutto forte mannaggia 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 è tutto forte pestilence è forte il guardiano è forte la torna è forte forse feed the swarm non è incredibile possiamo toglierli c'è qualche spot removal così si può andare a togliere a favore tanto una volta che abbiamo pestilence la risolviamo la partita per il resto stiamo andando a si è disconnesso vabbè rientrerà stiamo andando ad appesantire un po' il mazzo togliamo la custodia di squire per quanto faccia recursion lui dovrebbe sedare anche dell'height contro cimitero dunque lui gioca i guardiani quindi c'è inersedict in linea di massimo e forte che complicata che complicato si è togliere un paio di diures in realtà non è proprio il matchup in cui brillano non del tutto e poi a questo punto vado a togliere gioca i botti andiamo a limare a limare queste carte limiamo anche peste forte mi spiace però qualcosa dobbiamo togliere togliamo un po' no perché perché no togliamo ancora a questo punto un night whisper che mi fa perdere vite e l'altro night whisper facciamo così riduciamo gli elementi che ci fanno perdere vite così che diventi più difficile che lui possa chiudere di botti andiamo con un piano lendenai al molto molto forte molto molto pesante otto slandi mia di massimo questa side è fatta apposta per battere trono e per non perdere dei vari midrange e boros monarch è uno di quei midrange allora a me questa mano piace mi piace ok partiamo di campus questo è uno slando turno 3 quindi se mi vuoi fare una bella bounce land io sono molto contento ok barremur e passiamo corschi fisher va bene e fai una bella bounce land fai una bella bounce land bella bounce land eccola lì così dimostriamo perché gli slandi sono forti bene terra 1 2 e 1 3 col bianco dai rancid earth via la bounce land go ok spare supplies 2 2 danni ok 1 2 3 facciamo bonder facciamo terra passiamo tanto abbiamo cast down molto bene molto bene altra core sky fisher vabbè io intanto uccido questo così rimango a 18 ok altra bounce land bello slandino al top deck giochiamo 8 no cicliamo questa barremur male però diamo ancora una pescata sì vabbè 1 2 3 bonder ornament facciamo traben e passiamo ok abbiamo 2 3 4 5 6 7 mana contro 3 4 con quello che ci andrà a giocare tanto andiamo a 16 ok e bonder ornament questo è male però abbiamo guardiano abbiamo guardiano allora rischiamo 1 2 3 e 1 4 guardiano traben e kabira la race la spostiamo dalla nostra ok ok radiant fountain golden egg va bene va bene ok travel inspector e ci dà questi due danni va bene cast down direi che prima di tutto andiamo a pescare altra peste facciamo terra 2 3 4 2 3 e 1 4 facciamo peste e attacchiamo così così ok vabbè cambia poco passiamo magari aveva paura di cose leave no trace vabbò va bene attacca con la sky fisher e noi tanto abbiamo il cast down ok trova in inspector va bene e pesca di clou alla ricerca di qualche terra un'altra bounce land dai mazzo che ne abbiamo un sacco di islandi e invece una terra 2 3 4 intanto appoggio un'altra pestilence ciclo prendo questa la gioco e attacco e passo intanto va 18 ok 2 4 5 6 e ancora 20 reliche del progenitus me ne frega assolutamente nulla nulla la sacca va bene altra reliche va bene sacca clou va bene cicla va bene e penso che andrà a passare 1 2 3 4 facciamo scry castigate oddio castigate ci può dare un'indicazione del dobbiamo spingere o meno quindi la tengo in top stappo tiro castigate capiamo che cosa ha in mano pala sentinel bolt bolt togliamo un bolt e attacchiamo con tutto a questo punto se fa pala sentinel io sono solo contento ho il guardiano il qua dovrebbe dire blocco blocco si si ok e diamo un danno passo e abbiamo abbassato un po' il reach togliendo quel bolt ci dà la possibilità va bene ci dà così la possibilità di chiudere un po' più agilmente di peste guardiano bel top deck bel top deck va bene e adesso dobbiamo vedere un chain noi 1 2 3 e 1 4 facciamo scry bottom mettiamo lo stop nel nostro upkeep 2 3 4 facciamo scry run seed earth però non mi serve adesso non mi serve adesso bottom peschiamo mannaggia mannaggia facciamo la mortuary e diamo due danni ok e adesso un po' di danni ce li prendiamo anche noi di queste ce le ha tutte tre in mano di queste esattamente la sua mano va bene io sono indietro quindi in teoria pala sentine non ha senso oltre al fatto che se pesco un chain gli levo entrambi i pezzi quindi no senso il problema è che non mi fa piacere andare in basso di vite per nulla decide di fare pala sentine 1 2 3 4 scry no ma una removal una removal 2 3 4 oola on top 1 2 3 4 5 6 però vopo andremo a 9 poco da fare andremo a 9 e faremo chainr sedict lui ha soltanto un botto in mano a meno che io sappia 1 e 2 chainr sedict su di te morto il guardiano e diventiamo monarchy che cos'ha? bolt va bene questo lo sapevo però devi avere altri due botti tre li hai usati quindi di nuovo in meno di mezzo mazzo devi vedere un tot di cose po' gioca bog questo è un male questo è un male 2 4 altra pala sentinelle eh qua andiamo a scryare di nuovo 2 la peschiamo 1 2 chainr sedict e proviamo ad attaccare vediamo se ha tenuto le prismatic strand post side sarebbe un po' da pazzi ok e che andiamo a pescare 2 no si forse peschiamo qua c'è un altro botto no tappi 2 tappi 3 tappi 4 peschiamo entrambi va bene è un'altra peste va bene mi serve qualunque cosa per fare delle vite ma proprio qualunque cosa per fare delle vite che sono un'altra cabira ma anche una bounce hand che poi mi fa fare due vite dopo o uno dei tre pre-istint talisman glintalk eh si però questo lo possiamo risolvere semplicemente di chainr perché di abbassarci di vite non ci conviene proprio per nulla va bene va bene va bene la bociuca l'ha usata va bene 7 carte in mano seconda bociuca meno male che ho detto la bociuca l'ha usata e niente dovremmo scraiare di nuovo va bene va bene in up tip 2 3 4 scrai o qualcosa che faccia vite o una removal ma boh stiamo vedendo tutti i chainr così che per carità schifo non fanno eh però facciamo un altro chainr morto il pezzo terra attacchiamo e stavolta poi potremo andare a scraiare nel suo turno sempre che non andiamo a morire da botti ok e lui va a 10 andiamo in end e e e vediamo se decide di farci pescare di nuovo di bonder decide di farci pescare di nuovo di bonder che in realtà è giusto è giusto perché lui si avvicina a ucciderci di botti E potenzialmente se sopravviviamo a questo turno abbiamo poi Castigate per togliergli almeno un botto, Chocking Sand per mandarlo indietro e fargli due danni, va bene, e Priest in Talisman, più Priest in Talisman che chiuderebbe la partita. Quindi, boh, vediamo, disse in realtà dovrebbe averli visti, ha visto abbastanza carte, Galvanica diamo a due, è un po' triste morire così, però succede. Tappi 3, di cui due neri, Reap in the Graves, Reap in the Graves, si va a riprendere Glyntalk e Palas Sentinel, va bene, quindi non ho altri botti. Che è molto positivo, è molto positivo per noi, ok? Va bene. Dunque in tutto questo è 6 minuti e 40, eh ragazzo? Quindi, prophetic prism, andiamo in end e a questo punto lui è tapped out, andiamo a scraiare, on top, eh sì, decisamente sì. Quindi, abbiamo due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici mana. No. Allora, uno, due, tre. Sono nove e con questo dieci. Uno, due, tre. Priest in Talisman. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Chainer Sedict su di te. Quindi a questo punto deve pescare una galvanica di cui ne usate due e due Bolt. Ok. Diamo due danni e qua gli eldiamo. Se pesca Bolt non mi uccide, deve pescare per forza galvanica. Ho doppio botto, ma. E mo' vediamo. Mo' vediamo. Prophetic prism. Va bene. Io faccio che ciclare l'ashbarra indirettamente. E chiudo gli occhi. risparmia un sacco di tempo. Prendiamo questa. E basta. Che belli questi Priest in Talisman. Che belli. Soprattutto in una versione di peste come questa. Veramente forti. Questa è una Palace. No, ci fa pescare di Bonder. Alla ricerca della galvanica perduta. Terra. Tappi tre, tappi quattro, Palas Sentinel. C'è ancora la possibilità di pescare la galvanica in hand. Ok. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Beh, devi pescarla prima la carta. Vabbè, vado uno. C'era il Bolt. Mo' peschi. Ok. Ok. Custdown. L'ha pescato? Ma perché la mi hai ucciso prima allora? E non le capisco queste cose. Ma che senso ha non uccidermi prima? Che senso ha? No. Faccio così. Ma non ha senso questa cosa. Mannaggia. E si è disconnesso. Non ha proprio senso non uccidermi prima. Non aveva proprio senso. Mamma mia. Metti che io giocassi le Prismatic Strand. Perché lo fate sempre? Ma poi lo fanno un sacco di giocatori questa cosa. Un sacco di giocatori. Soprattutto voi, giocatori di Barn. Perché fate questa cosa? Delle volte morite da stupidi. Perché non ha senso. Ma... Impazzisco queste cose. Io impazzisco queste cose. Se puoi uccidermi, uccidimi. Non ha proprio senso. In tutto questo, lui aveva qualcosa come 4 minuti. Si è disconnesso e sta perdendo un sacco di tempo. E di base è morto. Cioè, il G3 lo giocheremo, ma non potrà. In ogni caso fare qualcosa. Peccato che gli Island in questa partita non hanno fatto molto. Perché li abbiamo visti tutti quanti tardi. Ne giochiamo 8 apposta per vederli presto. Sarà per la prossima partita in cui vi mostrerò l'efficacia del piano Ponza di questo mazzo. Ok. Allora, la scelta in realtà è giusta, è giusta. Cioè, volendo possiamo mettere le prismatiche, ma... E infatti ha concesso perché non c'è tempo. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video. Ci vediamo al prossimo con la restante parte di questa lega. Ciao! Ciao!